Quando te lo dico io, ora, sì ma devi parlare. Dunque, noi siamo qua, è il paese, il paese non può vivere più nessuno, perché diciamo c'è esigenza, specialmente i giovani, sono disoccupato, c'è lavoro. Lei lavora? Lavoro completamente. E che cosa vuole fare? Tutta la giornata non faccio niente. E al comune non gli ha detto niente? Il comune mi hanno detto, dice non c'è niente e non ci sono soldi, e possono lavorare i cittadini e basta, così. Capito, la farò andare in telegiornale, va bene così lei... Non può neanche campare la gioventù, perché se sono gioventù non può andare neanche avanti. Dove cosa vuole fare? Vuole salutare a tutti, vuole fare la casa, salutare a tutti. È stato un piacere, lo dica, giustamente. È stato un piacere. Alla prossima. Alla prossima. E dove lo faccio vedere? Eh? Dove lo faccio vedere? TV9. Eh? Un sorrisino. Aspetta, aspetta, primo piano, primo piano, primo piano. Di nuovo. Sì. Il dente nuovo, il dente nuovo, vediamo qual è, qual è. Ho pure i denti miei. Ah, 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 importante. Ok, arrivederci. Siamo, puri, siamo! Oh yeah! Grazie a tutti